Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Vi faccio vedere un'altra delle mie passioni Cioè la musica Ogni tanto a me parte uno schizzo, un embolo Di creare qualcosa con il computer E un giorno mi è venuto di... Mi ero intrippatissimo con le musiche tipo Hans Zimmer Molto epiche, molto particolari da un certo punto di vista E quindi ho detto ma si proviamo a fare qualcosa del genere E vediamo cosa esce fuori Bene, è uscito una cosa come questo Beh ragazzi vi lascio all'ascolto di questa chicca Che ancora i pochi conoscono A tra poco Grazie a tutti 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 Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao